Si consolida, amplia e innova il progetto ideato dall'amministrazione comunale per il rilascio dei certificati anagrafici, avviato a settembre 2019, che ha coinvolto anche le edicole del territorio comunale. A partire da oggi, infatti, documenti come il certificato di residenza, di stato di famiglia e di cittadinanza, con pieno valore legale, si potranno ottenere sia online attraverso il portale del Comune di Pesaro, nella sezione Servizi online utilizzando un'innovativa e sicura piattaforma informatica, si è recandosi nelle edicole e tabaccherie convenzionate. Per accedere al portale online bisognerà essere in possesso dell'identità digitale Speed, oppure della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi. Sarà necessario inoltre munirsi di marca da bollo prima di iniziare la procedura. Innovazione, io direi, è semplificazione per i cittadini. È un ottimo passo avanti per i cittadini, hanno la possibilità sotto casa di fare certificati anagrafici, non solo nelle tabaccherie ma anche nelle edicole. Come avete visto durante la conferenza stampa abbiamo appunto spiegato che abbiamo semplificato anche tutto il portale del Comune di Pesaro, quindi chi è capace può fare i certificati anche direttamente online da casa. Chi non è capace può recarsi alle tabaccherie oppure alle edicole e quindi abbiamo dato la possibilità ai cittadini di non venire per forza negli uffici in centro, ma se avete notato anche le tabaccherie che hanno aderito sono tabaccherie di Borgo Santa Maria, Fiorenzuola, Trebbiantico, quindi anche diciamo quelle tabaccherie che sono nelle zone più limitrofe della città, quindi dare omogeneità e aiuto ai cittadini che si trovano nella parte periferica. Quante sono queste tabaccherie edicole che aderiscono alle servizi e qual è il costo anche? Sono 17 edicole e 17 tabaccherie, 2 euro costa la certificazione in tabaccheria e 1 euro costa la certificazione in edicola. Sono molto soddisfatta anche come assessora all'innovazione, è stato fatto un lavoro di squadra, ho lavorato insieme anche all'assessore Mila della Dora e a Riccardo Pozzi che avevano già iniziato questo processo, però mi sento di dire anticipatamente che i prossimi mesi ci saranno novità innovative che riguardano sempre la pubblica amministrazione. Pagopà sarà uno di questi. Con l'attivazione dei nuovi servizi è stata rivolta un'attenzione particolare anche al rispetto della privacy. Questa cosa l'ho voluta tenere molto in considerazione, infatti con le agenzie che abbiamo fatto la convenzione era una delle priorità che abbiamo messo perché chiaramente la privacy, però ogni cittadino che non vuole fare il certificato anagrafico nella tabaccheria può recarsi come faceva prima negli uffici, che ad oggi abbiamo anche ricordo gli uffici decentrati.